Professore Franzina, come nasce la sua lezione di storia cantata ispirata a Garibaldi? Fa parte di una serie di lezioni di storia cantata che faccio da molti anni. Sono conferenze e spettacolo sui più diversi argomenti. Sono partito molti anni fa con quelli sull'emigrazione, che è un po' il mio tema di ricerca preferito. E poi ho ampliato il quadro in raggio d'azione. Man mano che deperiva l'università e vedevo che si faceva fatica a parlare con gli studenti, ho incrementato questo versante che praticamente è poi quello che faccio sempre, anche in aula. Spiego, racconto, cerco di far ragionare con una differenza che al posto dei documenti scritti che possono essere letti oppure, se c'è lo schermo, proiettati e commentati, i documenti sonori, che sono anch'essi dei documenti, funzionano come fonti e consentono di imbastire un racconto che alla fine, si spera, di solito lo è, diventa anche per il più ostico degli ascoltatori, gradevole. Quindi si spera che anche questa sera vada così. Ma perché canti, canzonette, canzoni, patriottici possono aiutarci a capire meglio pagine di storia? Per il semplice motivo che, come potete immaginare, ma tutti, basta soffermarsi un attimo a pensarsi, di tutti gli elementi che spingono all'azione, all'impegno, al coinvolgimento, talvolta a rischio anche della vita, quindi insomma tutto quello che nel risorgimento italiano, ma in genere in tutti i movimenti nazionalisti e irredentisti, si è dato, ha dietro, e gli storici ultimamente sono proprio di queste idee, lo scrivono nei loro libri di storia culturale, ha dietro la letteratura, la poesia, l'immaginario e il culmine dell'immaginario, quello che parla fra l'altro un linguaggio universale, è la musica. E se ci si pensa, proprio i canti, che siano patriottici, ma che comunque potrebbero anche essere da altra foggia e natura, che implicano un coinvolgimento emotivo fortissimo, diventano strumenti e anche un presupposto non secondario dell'azione. Tant'è vero che anche in questo discorso che io faccio su Garibaldi, come altri che faccio più in generale sul risorgimento, viene fuori una cosa chiarissima, che proprio sull'azione, cioè chi ha fatto veramente le cose, che vuol dire anche venare le mani, vuol dire anche impegnarsi, combattere e rischiare la vita, insomma tutti questi qui hanno dietro dei canti, mentre invece la componente diplomatica, politica, cioè voi non avete canzoni su Cavour, pensateci, non avete canzoni neanche al limite su Vittorio Emanuele. E' vero che ce ne sono poche anche su Mazzini in sé per sé, ma su tutta quanta l'ideologia mazziniana di canzoni ce n'è millanta che tutta la notte canta. E quindi è questo il motivo per cui, a maggior ragione, parlando di risorgimento o comunque di lotte per l'autonomia e l'indipendenza dei popoli dell'Ottocento, fare riferimento al repertorio musicale, a questo grande serbatoio di suoni che si riferiscono a un linguaggio che è di quel tempo, fa bene alla salute, aiuta a capire e probabilmente, spero anche, diverta. Ci può dire qual è l'altro mondo di Garibaldi che lei porta in scena? Sì, c'è anche, eh beh sì, qui devo dire che qui c'è un elemento in più rispetto agli altri discorsi che vengo facendo, poniamo su risorgimento, in questi giorni sto facendo in giro per l'Italia una cantata risorgimentale dove prendo in esame dal 1797 fino a quasi i nostri giorni tutto quanto l'armamentario simbolico musicale del nazionalismo che è un nazionalismo dal volto buono nell'Ottocento e poi degenera alla fine dell'Ottocento e nel Novecento, mentre invece per Garibaldi ho fatto un'operazione più impegnativa, perché il titolo stesso lo dichiara, io non racconto solo Garibaldi pubblico, uomo pubblico, guerriero, simbolo vivente dell'Unità d'Italia, mito ambulante, racconto anche il Garibaldi privato, quindi da un lato le storie sue, perché fino ad esempio lui fino a 26-27 anni non è che si occupasse di politica, ha fatto per 10-12 anni essenzialmente il marinaio, la sua onofagorazione quasi tardiva rispetto ad altri, poi c'è una vita privata che si svolge in parallelo, a parte la storia di Anita che è la storia d'amore, c'è, per amor di Dio, che non voglio dire eresia, non c'è il bunga bunga Garibaldino, ma insomma Garibaldi era uno che non si risparmiava, dopo la perdita dell'amata Anita di donne ne ha avuto una profluvie e poi anche ha avuto un episodio che lo ha contristato, un matrimonio che è durato tre giorni, tutte cose che la gente non sa e che vanno anche raccontate perché spiegano una cosa che a me preme molto far capire, che questi uomini di cui noi giustamente pensiamo tutto quello che abbiamo letto nei libri di storia, nei manuali a scuola ebbero anche una dimensione privata, perché erano come noi, quindi passioni, amori, disillusioni, sconforti, al di là della stessa politica, ci sono ad esempio per dire Garibaldi, noi ce lo immaginiamo sempre a cavallo, a parte che era un marinaio e comincia sulle navi e non a cavallo, ma poi anche non possiamo immaginarselo come fece gli ultimi vent'anni già dall'impresa dei mille in poi affetto da malanni brutti, cioè lui era uno che soffriva di artrosi in maniera atroce, certe volte rimaneva immobilizzato, gli ultimi tre anni della sua vita li fa praticamente in carrozzella, allora sono tutti quanti flash che io le dico per mettere in evidenza e sottolineare questo aspetto che non è secondario, che nel titolo si riflette, voglio vedere un Garibaldi e far vedere un Garibaldi uomo oltre che ovviamente capo militare, leader politico e quant'altro e allora facendo questo si capiscono meglio molte cose, si capisce la contraddizione fra uno che era violentamente anticlericale ma non era assolutamente ateo, aveva una religiosità come del resto anche Mazzini che noi stentiamo a collegare alle pratiche dell'anticlericalismo che erano violente da parte sua e dei suoi e capiamo meglio anche tanti momenti che ha avuto disconforto esistenziale che si intersecano con le vicende politiche di un paese che nasce direi soprattutto per merito suo perché è lui che crea il miracolo, la conquista del Regno del Sud, del meglio Regno delle Sicilie e opera sua e c'è poco da girarci attorno. Oltre che essere stato l'eroe della Repubblica Romana oppure il protagonista di storia che racconto pure con le musiche relative in America Latina, quindi ci sono suoni che riguardano il Brasile e l'Argentina che spiazzano un poco ma che sono stati un mondo dei suoi perché lui per 15 anni è stato lì. Ecco sono i momenti che mi consentono di dire vabbè io ho fatto una lezione di storia in cui racconto un aspetto della vita generale che molti conoscono e in cui ne racconto però anche tanti altri che forse non si conoscono altrettanto ma che valgono a capire meglio, a inquadrare meglio il precedente e quindi a portare a caso un duplice risultato. Ma informare divertendo. Grazie.